Residenze fittizie per ottenere il ricongiungimento dei parenti che si trovavano all'estero. È questo il meccanismo che, secondo la procura di Verbania, tra il 2020 e il 2021 è stato orchestrato nella provincia del Verbano Cusio-Ossola da un gruppo di persone del Nord Africa. Falso e favoreggiamento sono i reati contestati nel procedimento che si è aperto mercoledì 24 gennaio in udienza preliminare, di fronte al GUP Rosa Maria Fornelli. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.